Ok, facciamo il video reporter. Questa qui è Piazza del Popolo, oggi 24 luglio, è abbastanza piena. C'è qualcuno con un megafono che parla contro il Green Pass e contro i vaccini, ma in quanto fatti con gli animali, e quindi sono gli animalisti più organizzati, nessuna insegna politica, nessun palco con degli altoparlanti, una manifestazione spontanea che ha il suo valore in quanto tale, c'è ancora qualcuno che pensa in Italia, ma non siamo votanti, non siamo organizzati e quindi si fa già la fine che faremo.